Buon appetito a nostra cucina! Oggi prepariamo una ricetta medievale di lasagna medievale, un piacere e delizioso piacere abbastanza diverso da la lasagna di moderno. Iniziamo con gli ingredienti. Neffiamo la farina, usiamo la ricetta di semolina, il cuore, il cuore ed il cuore, il pecorino ed il cuore ed il cuore. E poi le spezie, il cibo, il cibo, il cibo, il pepe di nero, il pepe di nero e il pepe di lungo. Prima prepariamo un cuore di cuore, con alcune spezie. aggiungiamo il cibo alfa, il cibo alfa, il pepe di nero, il pepe di nero, il pepe di nero e il pepe di nero, e due piccoli, ovviamente, di salto. Per questa ricetta potete usare il cuore o qualsiasi altro cuore. Qualcun cuore medievale ha la sua propria ricetta di lasagna, e quasi tutti hanno bisogno di cuore la pasta in un cuore ricetto. Quando il cuore inizia a cuore, lo scendiamo tanto che possiamo. Questo passo è spesso suggerito dal cuore di ricetta medievale. Quando il cuore cuore, prepariamo la pasta. Necessiamo la farina con due piccoli di salto e acqua calda. Necessiamo, per almeno 10 minuti, per ottenere una consistenza semplice e elastica. Abbiamo solo conosciuto, dai fondi medievali, che bisogna usare la farina bianca 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 bianca. Il durum di salto con semolina darà una pasta più al dente e con un sapore migliore, ma puoi usare qualsiasi tipo di farina per questa ricetta. Poi rilassiamo la pasta di salto, spostando molto con la farina per evitare la salto di sottolineare al pinno o alla superficie lavorativa. Poi tagliamo la salto in quadri a tre punti, secondo le indicazioni della Liber de Coquina, un cuore di ricetta medievale. ricetta medievale. Ora rilassiamo le spezie che usare per finire il piatto. Poi abbiamo scelto il nutmeg, pepe lungo e le piazza. Puoi cambiare le spezie per il tuo gusto. Suggeriamo di usare una mixa di spezie, non solo una specie. Qualche ricetta di lasagna dei manoscritti medievale ha alcune variazioni e a volte non ci sono alcune spezie. Questa volta non abbiamo scelto solo una ricetta. Abbiamo preferito scelto le migliori parti dei ricettari medievali italiani, per avere la migliore versione di questo delizioso piatto che era molto popolare nel medioevo. Quando il brodo è pronto, cuociamo la lasagna. Il tempo di cuocere dipende dalla flour che usate e dal contenuto di moistura del pane. Aggiungiamo la pasta e la plettiamo, alternando una strada di pasta e uno di cheese e spezie. Oltre a essere un piatto semplice che la lasagna di moderno, cuocere la pasta in un fratto ticco e spicco, dà a questa lasagna un profondo, ricco e complesso. Questo piatto semplice è un piatto delizioso modo di scoprire l'origine di una famosa pasta italiana moderna e di mangiare uno dei piatti più popolari medievali. Questo piatto semplice è un piatto semplice. Grazie a tutti.